Un appalto da 30 milioni di euro per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell'abitato di Conversano, durata nove anni in funzione da tre circa, da quando cioè la Lombardi Ecologia cominciava a traballare per il buco finanziario che l'ha portata il mese scorso al fallimento. La gara risale al dicembre del 2013, più volte oggetto di interrogazioni in Consiglio Comunale e di esposti alla magistratura per presunte irregolarità. Segnalazioni che una dietro l'altro hanno convinto la Procura della Repubblica di Bari, così come ha fatto la Corte dei Conti e l'autorità nazionale anticorruzione. Oggetto dell'inchiesta è il bando di gara, il contratto sottoscritto tra comune e azienda e i requisiti richiesti per la stipula. L'appalto con la Lombardi Ecologia è da sempre entrato nel mirino del comitato cittadino RIF, riprendiamoci il futuro. Durante le procedure di gara una ditta lombarda, la Aimeri, presentò ricorso al TAR chiedendo l'annullamento della gara per presunte irregolarità. Il TAR respinse il ricorso, così come in ultimo grado fece anche il Consiglio di Stato. Ma sulla questione è intervenuto il comitato civico, secondo il quale, incrociando i documenti ufficiali, si desumeva che la ditta giudicataria, oltre ai ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori, risultava non in regola con il versamento dei contributi previdenziali per buona parte dei dipendenti.